Come raggiungere i primi 100K? Lo vediamo in questo video. Prima di mostrarti come raggiungere i 100K, vorrei prima porre l'attenzione sul perché ancora non hai raggiunto i 100K. Perché è importante questa domanda? Perché il più delle volte siamo noi stessi che ci autosabotiamo, siamo noi stessi il problema, perché lo vediamo, un obiettivo così irraggiungibile, che ci priviamo automaticamente della possibilità di raggiungerlo. Eh, quando raggiungo i 100K? Eh sì, adesso 100K, ma come faccio a fare i 100K? Ed è questa la prima cosa sulla quale andare a lavorare, il modo in cui pensiamo e soprattutto il modo in cui percepiamo questi obiettivi. Perché? Perché se reputi impossibile raggiungere i 100K posso assicurarti che non li raggiungerai mai. Che poi tu mi dici, beh ma 100K è una bella somma, assolutamente sì, nessuno lo mette in discussione, ma questo non vuol dire che tu non possa meritartela oppure non possa raggiungerla. Ma ora entriamo nel vivo dell'argomento. Come faccio a raggiungere i 100K? Con il tempo e la pianificazione. È ovvio che 100K, visti così tutti insieme, dici oddio come faccio a raggiungere, ti prende un colpo, no? Lo vedi in un obiettivo grandissimo, irraggiungibile. È per questo che serve il tempo e pianificazione. 100K cos'è? È un macro obiettivo che non raggiungi in un mese, sia chiaro, io te lo auguro, però è difficile che una persona raggiunge 100K da zero così in un mese. Quindi che cosa va fatto? Va preso il macro obiettivo e va scomposto nel tempo. Facciamoci due conti. 100K l'anno, quanti sono al mese? Sono 8.333 euro. 8.333 euro, semplifichiamo 8.000, diviso 4 settimane, sono 2.000 euro a settimana. Quindi che cosa vuol dire? Perché ho utilizzato questa matematica spicciola? Che ti basta vendere 2.000 euro di prodotti o servizi a settimana per raggiungere l'obiettivo più grande. Abbiamo scomposto il macro obiettivo in un micro obiettivo. Come faccio a vendere 2.000 euro a settimana di prodotti o servizi? Beh, questo dipende da te, dai prodotti che vendi e dai servizi che vendi. Puoi scegliere di vendere 200 prodotti a 10 euro, 20 prodotti a 100 euro. Puoi scegliere di vendere 2 prodotti a 1.000 euro, 2 servizi a 1.000 euro o anche 1 a 2.000 euro. È qui che entra in gioco la pianificazione. Vuoi scomporre ancora di più 2.000 euro? Vogliamo dividere per 5 giorni a settimana lasciando fuori il sabato e domenica? 2.000 euro diviso 5 giorni a settimana fanno 400 euro al giorno. Devi trovare il modo per fare 400 euro al giorno. Nella mia testa, per esempio, 100k sono 100 persone che acquistano un prodotto o servizio da 1.000 euro. Oppure 200 persone che acquistano un prodotto o servizio da 500 euro. Il problema dove sta? È nel trovare queste persone disposte a comprare i tuoi servizi o prodotti. Ed è qui che casca l'asino. Perché qui il problema principale non è il vendere ma è l'attrarre persone disposte a comprare i tuoi servizi o prodotti. Ecco perché dico che ad oggi è indispensabile per qualsiasi realtà realizzare dei video dal messaggio semplice e coinvolgente. Perché questi, se hanno un messaggio ben definito, hanno la capacità di raggiungere un vasto numero di persone in target. E se vuoi saperne di più su come aumentare le tue vendite online, clicca sul link che trovi in descrizione e accedi al video gratuito che ho preparato apposta per te. Quindi, come hai potuto vedere, morale della favola, 100k è un obiettivo raggiungibilissimo, specialmente se lo suddividi in un anno. Il problema è trovare persone disposte a comprare i tuoi servizi o prodotti. Quindi se vuoi raggiungere i tuoi primi 100k, in primis che cosa devi fare? Devi catturare l'attenzione del tuo pubblico target, devi trovare il modo per portare le persone giuste a comprare i tuoi servizi o prodotti. E poi fondamentalmente automatizzare il processo, cosa che viene però successivamente al lavoro di attrazione. Se vuoi maggiori informazioni su questo, ho preparato un video apposta per te. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che ti sia stato utile. Se ti è stato utile, metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanellina e al prossimo video. Grazie a tutti.